vi va di fare un giro per la città si allora tutti a bordo le ruote del treno girano 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 le ruote del treno girano per tutta la città il claxon del tren fa tu 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 il claxon del tren fa tu 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 per tutta la città il motore del tren fa cho 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 Il motore del tren fa ciu 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 per tutta la città I vagoni del tren vanno su e giù, su e giù, su e giù I vagoni del tren vanno su e giù per tutta la città I bimbi sul treno fan ue 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 u fa shu 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 per tutta la città i passeggeri sul treno le rotaie sotto il treno fan ta 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 le rotaie sotto il treno fan ta 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 per tutta la città vi è piaciuto Bob il treno? allora tornate presto! ciao bambini venite in un posto eccezionale con me? si vogliamo che bello! yeee! ok allora andiamo al campo militare facciamo presto! basta aspettare cosa vedete bambini? un carro armato! si esatto! nel campo militare è il pezzo più pregiato salve carro armato puoi dire che fai ai miei bambini? io proteggo il paese e i suoi confini guardate il camion militare ciao camion militare dimmi che devi fare ciao Bob ai soldati sto portando da mangiare perciò devo andare ciao ambulanza sembri un po' affannata ehi Bob è perché sono sempre indaffarata ma cos'è che fai per tutto il giorno? porto via i soldati feriti e poi ritorno è proprio un gran lavoro si signor Bob di sicuro cosa c'è la che viene fuori dall'acqua? poco fa non l'avrei visto neanche da vicino ehi la Bob sono il signor sottomarino il mio nome significa sotto il mare ma sia fuori che dentro l'acqua io posso stare ciao sottomarino ciao Bob come state? salute a te signora nave navigavi per le acque sconfinate? si per proteggere le coste navighiamo sui sette mari ed è certo una gran cosa di cui andare fieri guardate la è una portaerei o no? è proprio quel che sono come stai mio caro Bob? io sul mare sono come un aeroporto tutti questi aerei io da sola li trasporto un aereo da battaglia che decolla bello vero? io volo così in alto che proteggo il cielo intero guardate un elicottero da trasporto come va lassù? ciao Bob come stai tu? io trasporto le truppe e i cieli attraverso vicino o lontano non è diverso arriva il bombardiere guardate bambini ciao Bob mi chiamo bombardiere ed i nemici faccio tremare le mie bombe distruggono qualsiasi obiettivo sia sulla terra che per il mare ciao trasporto truppe corazzato cos'hai lì dentro che stai nascondendo? ciao porto forze militari laddove si sta combattendo ciao Bob come va laggiù? ciao elicottero come stai tu? sono molto simile al camion militare e tutti quanti posso aiutare servo a raggiungere zone difficili da avvicinare via terra o via mare bambini guardate che trasporto militare è quello riuscite a indovinare? aeroplano? jeep? elicottero? dai dicelo per favore no è un overcraft militare oh mio dio lo stiamo per incontrare io posso andare su qualunque superficie e non c'è ostacolo che mi possa fermare guardate la bambini arriva una jeep militare ciao Bob io su strade accidentate ripide e scoscese riesco sempre a andare bambini spero vi siate divertiti al campo militare adesso ciao a presto devo proprio andare ciao ciao Bob ciao bambini io sono Bob oggi impareremo l'alfabeto A è la prima lettera che dobbiamo trovare andiamo a cercare A Bambini riuscite a vedere A si nasconde dietro il lampione buh ciao Bob ehi vieni con me ok Bob cosa stai facendo lassù B? ti stavo cercando ed eccoti qui guardate bambini c'è C e sembra stia andando da qualche parte ciao Bob ciao C dove stai andando? sto andando al parco perché non ti unisci a noi invece? sì dì che stai facendo dietro quell'albero? sto giocando a nascondino vieni con me a fare un bel giro? sì ciao e come stai? ti vuoi unire a noi? ciao Bob bene grazie mi piacerebbe molto unirmi a voi bambini che cos'è? perdin di rindina è F ciao Bob ciao G dove stai andando? ciao Bob sto andando a incontrare H vieni con me ciao H ciao Bob ehi G andiamo con Bob sì bambini le prossime lettere sono I e G stiamo aspettando l'autobus per andare alle isole galleggianti anch'io sto andando alle isole galleggianti venite con noi bambini guardate K è sull'altalena Bob posso unirmi ai miei amici I e Jay? sì sì aspettatemi vengo anch'io ciao M che stai facendo? ciao Bob sto andando a casa perché non ti unisci a noi invece? sì ciao N ciao O ciao Bob ciao Bob ciao P dov'è Q? ciao Bob sto cercando Q mi aiuti a trovare Q? ecco Q che si nasconde dietro la casa guardate bambini c'è S ciao Bob sto aspettando R ciao Bob ciao T Sì stai andando da qualche parte? Sì stai andando da qualche parte? ciao Bob sto andando in città a incontrare U e V andiamo a trovare U e V insieme sì ciao U e V venite con me a incontrare W? sì anche noi andiamo a trovare W 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 ciao W andiamoci insieme ciao W ciao Bob sto aspettando i miei amici T U e V li hai visti? sì sono a bordo perché non ti unisci a loro? sì guardate i nostri amici possiamo unirci a loro Bob? certo x y e z è stato divertente a presto ciao ciao io sono Bob e voglio aiutarti a imparare i numeri contiamo tutti i numeri sui miei vagoni un furgone uno ciao uno ciao Bob due orologi uno due come va due? tutto bene Bob tre barattoli uno due tre ciao tre come va Bob? quattro soli uno due tre quattro ehi la quattro tutto bene Bob? cinque ombrelli uno due tre quattro cinque ciao ciao Bob sei arance uno due tre quattro cinque sei come va sei? bene Bob sette mele uno due tre quattro cinque sei sette ciao sette come va Bob? otto cappelli uno due tre quattro cinque sei sette otto come va otto? tutto bene Bob nove lecca lecca uno due tre quattro cinque sei sette otto nove ciao nove tutto bene Bob? dieci palle uno due tre quattro cinque cinque sei sei sette otto nove dieci come va dieci? benone Bob adesso contiamo i numeri un'altra volta uno due tre quattro cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! Ciao bambini! Dite oggi come andiamo! Siete pronti, sì? Perché oggi noi giochiamo! Con tante forme colorate e divertimento a volontà! Eccole che arrivano! Adesso ognuna si presenterà! Mi chiamo Quadrato, ho i lati uguali e sono quattro! Come mi giri sono sempre uguale! Io sono il Quadrato, non puoi sbagliare! Cerchio, così mi chiamo! Sono tondo e rotoloso, puoi toccarmi con la mano! Io non sono Spigoloso! Sono il cerchio! Sono il cerchio! Rettangolo son chiamato! Ho quattro lati, come il Quadrato, ma i miei son diversi, non ti sbagliare! Due corti e due lunghi! Prova a contare! Uno, due, tre, quattro! Triangolo è il mio nome! Sali dritto fino in cima! Poi scendi giù dalla collina! Torna indietro e che hai trovato? Un triangolo! Sì, sono un triangolo! Ok bambini, dobbiamo andare! A giocare con le forme e a costruire! Quanto siamo bravi! Ora mostriamo! Una bella casetta! Con le forme facciamo! I miei quattro lati son tutti uguali! Come son chiamato? Quadrato! Sì, mettiamolo qui! E adesso il tetto! Secondo voi che forma ci metto? Triangolo! Sì! Mettiamolo qui che è perfetto! Siamo proprio forti! E ora una forma con quattro lati, due lunghi e due corti! Rettangolo! Un rettangolo, indovinato! E che bella casa abbiamo creato! Yeee! Visto che ci divertiamo, allora adesso continuiamo! Se vogliamo andare lontano da qua, un'automobile ci servirà! Sì! Sapete qual è la forma che va rotolando qua e là? Un cerchio! Un cerchio, proprio lui, sì! E poi va messo così! Ci serve un pezzo a quattro lati, due più stretti e due allungati! Rettangolo! Sì! È un rettangolo e mettiamocelo sopra! Quale forma quattro lati uguali adesso ci vorrà? Quadrato! Il quadrato è perfetto e guardate, ecco qua! Ogni forma abbiamo usato e una bella auto abbiamo creato! Yeee! Ora un bell'albero potremmo fare! Bambini, mi volete aiutare? Sì! Prima un rettangolo un po' marroncino, dite un po', non è carino? Quale altra forma potrebbe servire? Cerchio, rettangolo, dicelo per favore! Ok, dei triangoli potremmo usare! Wow, che bell'albero, ad essere sincero! Bambini, non è forse vero? Sì! Adesso facciamo una bella altalena! Bambini, che dite? Ne vale la pena? Sì! L'altalena ci piacerà! Sì! Urrà! Urrà! Ok! Con che forma partiamo? Chissà! Perfetto! Un triangolo è quel che ci va! Con quattro lati, due corti e due lunghi, serve una forma che lo ricopra! Prendi un rettangolo e mettilo sopra! Ora, pian piano, appoggiamolo su! Guardate! La nostra altalena va su e giù! Io mi diverto e voi come va? Bene, Bob! Urrà! Urrà! Dobbiamo sederci e mangiare qualcosa! Ci servono sedie e una tavola nuova! Con quattro rettangoli facciamo le gambe! Mettiamole tutte qui in quest'angolo! Sembra perfetto! Grazie, rettangolo! Ora, serve una forma circolare! Bambini, volete dirmi che forma cercare? Un cerchio! Esatto! Un cerchio! Lo appoggiamo sopra e hoppla! Più grazioso che al negozio! Il nostro tavolo, eccolo qua! Coi quadrati e coi rettangoli, le sedie dobbiam fare! Guarda qui che meraviglia! Ci possiam tutti sedere! Grazie, forme! È stato proprio divertente! Spero che vi sia piaciuto! Ci vediam prossimamente! Ciao a tutti! Che splendida giornata! Oggi andiamo alla fattoria! Vai con Bobbi in fattoria! Quante bestie sulla via! C'è il cavallo! Ballo! Vai con Bobbi in fattoria! Ia 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 o! Vai con Bobbi in fattoria! Ia ia o! Quante bestie sulla via! Ia ia o! C'è il maiale! Il maiale! Iale! 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 Il maiale! Iale! Iale il maiale! Iale il maiale! Vai con Bobbi in fattoria! Ia ia o! vai con bobby in fattoria ia ia o quante bestie sulla via ia ia o la gallina la gallina vai vai con bobby in fattoria ia ia o vai con bobby in fattoria ia ia o quante bestie sulla via ia ia o c'è la pecora 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 vai con bobby in fattoria ia ia o vai con bobby in fattoria ia ia o quante bestie sulla via ia ia o c'è il cane cane ca ca cane vai con bobby in fattoria ia ia o vai con bobby in fattoria ia ia o quante bestie sulla via ia ia o c'è il gatto mia o gatto mia o ga ga gatto mia vai con bobby in fattoria ia ia o ciao bambini spero vi siate divertiti ciao io sono bob dai sentiamo insieme i versi degli animali puoi sentir la papera qua 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 senti la gallina co 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 senti la gallina che fa co 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 Senti qui il cavallo, ii, ii, senti il cavallo, ii, ii, puoi sentir la mucca, muu, 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 senti qui la mucca che fa muu, 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 senti il maiale Oin, 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 senti qui il maiale, oin, 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 e senti la pecora, be, 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 senti qui la pecora fa, be, be, be Puoi sentire il cane, bau, 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 senti qui il cane, bau, 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 puoi sentire il gatto, miau, 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 senti qui il gatto che fa miau, miau, miau Puoi sentire la scimmia, u, a, a, senti qui la scimmia, u, a, a, e senti il leone, roar, 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 senti qui il leone che fa roar, roar, roar Puoi sentire il gufo, u, 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 senti qui il gufo, u, 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 senti la ranocchia, cra, 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 senti la ranocchia che fa cra, cra, cra Senti il serpente, bis, 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 senti qui il serpente, bis, 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 bis Puoi sentire la mosca, bzz, 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 senti qui la mosca che fa bzz, 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 bzz Puoi sentire l'asino, o, i, 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 Vi è piaciuto? Sì! Tornate quando volete! Ciao, sono Bob il treno. Viaggio sui binari e i passeggeri possono sedersi su di me e andare verso luoghi lontani. Posso anche portare merci da un posto a un altro. Andiamo a trovare gli altri mezzi di trasporto. Guardate, là c'è un'automobile. Hey Bob, sto andando a fare un picnic. Ci vediamo presto Bob. Guardate bambini, c'è una macchina della polizia. Cosa stai facendo macchina della polizia? I poliziotti siedono dentro di me per catturare i ladri. È un lavoro coraggioso combattere contro l'ingiustizia. Dov'è che vai così di fretta, camion dei pompieri? Delle persone sono intrappolate in un incendio. Sto andando a salvarli con l'aiuto dei pompieri. Guardate, arriva un'ambulanza. Io vado a portare malati e feriti all'ospedale. E tu cosa fai, camion della spazzatura? Io raccolgo i rifiuti. Guardate, ci sono muletto e bulldozer. Ehi ragazzi, cosa state facendo? Ciao Bob, sto aiutando muletto rimuovendo gli ostacoli. Ciao Bob, io aiuto caricando e scaricando. Allora, buon lavoro ragazzi. Guardate là, c'è l'elicottero che vola via. Ciao Bob! Ciao carroattrezzi. E tu cosa fai? Io traino le macchine guaste. Spero vi siate divertiti bambini, imparando i vari mezzi di trasporto. Impariamo le forme. Quadrato Rettangolo Cerchio ellisse triangolo pentagono esagono ottagono rombo stella impariamo le verdure pomodoro carota peperone melanzana fungo patata broccoli cetriolo impariamo la frutta mela pera uva mango banana mora arancia ciliegie impariamo gli animali elefante elefante panda pirata giraffa scimmia leone tigre pecore pecore maiale mucca cani cani am thanks new Grazie a tutti